Ti sei mai chiesto cosa succede quando Bitcoin attraversa una fase di forte rialzo? Oggi analizziamo proprio questo, partendo dalla recente rottura del prezzo di Bitcoin che ha superato i 64.000 dollari. Questo non è solo un numero, ma un segnale che potrebbe indicare sviluppi significativi per il mercato delle criptovalute. Vediamo insieme cosa sta succedendo e cosa possiamo aspettarci. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Bitcoin ha fatto un importante balzo in avanti, superando i 64.000 dollari. Questo evento non solo segna un rialzo del prezzo, ma anche un potenziale punto di svolta per l'intero mercato delle criptovalute. Quando Bitcoin registra un movimento del genere, gli effetti si ripercuotono su tutto il mercato. Ad esempio, nelle ultime 24 ore, molte altcoin hanno mostrato una notevole crescita, trainate dall'impulso positivo di Bitcoin. Progetti come FET e Gala hanno registrato guadagni significativi, con incrementi rispettivamente del 50% e del 34%. Questo tipo di movimenti suggerisce che potremmo essere di fronte a una fase di espansione generale nel mercato delle criptovalute. Ma cosa c'è dietro questa crescita? Esistono diversi indicatori e grafici on-chain che offrono spunti interessanti su cosa potrebbe accadere a breve termine. Uno di questi indicatori mette a confronto l'attuale con quelli passati, rivelando che Bitcoin si trova ancora in una fase relativamente bassa rispetto ai massimi storici precedenti punto market cicle. Questo potrebbe significare che siamo in una fase simile a quelle passate, dove dopo un periodo di consolidamento, Bitcoin ha registrato nuovi massimi storici. Se esaminiamo più da vicino il comportamento del prezzo di Bitcoin nei cicli precedenti, notiamo che ogni volta che Bitcoin ha superato una certa soglia, ha spesso seguito una fase di crescita esponenziale. Ad esempio, un indicatore che analizza l'offerta globale di moneta ha recentemente mostrato una rottura verso l'alto, un segnale che storicamente ha preceduto aumenti significativi del prezzo. Questo pattern si è verificato più volte in passato e ora potrebbe ripetersi, portando Bitcoin a nuovi massimi storici. Un altro grafico interessante mostra come il prezzo di Bitcoin si comporta rispetto a due bande di prezzo specifiche. Attualmente, Bitcoin si trova nella parte bassa di queste bande, ma nei cicli di mercato precedenti, ogni volta che il prezzo ha rotto al rialzo, ha raggiunto nuovi massimi storici. Questo suggerisce che potremmo essere vicini a un altro periodo di crescita importante per Bitcoin, con la possibilità di vedere il prezzo salire fino a 90.000 dollari o oltre. Ovviamente, queste sono solo ipotesi basate su analisi storiche, ma gli indizi ci sono. E tu, cosa ne pensi? Dove credi che Bitcoin potrebbe arrivare in questo ciclo di mercato? Lascia un commento qui sotto, sono curioso di conoscere la tua opinione. Passando ad altre metriche, un indicatore che misura la liquidità del mercato ci mostra che la zona con la più alta concentrazione di liquidità si trova attualmente intorno ai 67.000 dollari. Questo potrebbe essere un potenziale target a breve termine, prima che il prezzo di Bitcoin inizi a stabilizzarsi. Tuttavia, è importante notare che esiste ancora una notevole quantità di liquidità nelle fasce più basse, il che potrebbe indicare la possibilità di ritracciamenti prima di una nuova espansione verso l'alto. A questo punto, è utile esaminare come la volatilità potrebbe influenzare il mercato nei prossimi giorni. La recente volatilità è stata influenzata da dichiarazioni importanti da parte di figure di spicco come Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve. Le sue parole hanno avuto un impatto positivo sul prezzo di Bitcoin, contribuendo al recente rialzo. Tuttavia, dobbiamo essere pronti per eventuali ritracciamenti che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni, soprattutto con l'inizio della nuova settimana di trading. Tornando all'analisi del prezzo di Bitcoin, se guardiamo il grafico a time frame giornaliero, notiamo la formazione di una candela verde molto significativa, che ha segnato un incremento del 7% in un solo giorno. Questo movimento è stato accompagnato da un aumento della volatilità, il che potrebbe indicare che il mercato è pronto per ulteriori movimenti verso l'alto. Tuttavia, come sempre, è importante essere cauti e considerare la possibilità di ritracciamenti, soprattutto con l'avvicinarsi della fine della settimana di trading. Detto questo, grazie per avermi seguito fino a questo punto. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutte le ultime novità del mondo delle criptovalute. Se hai trovato utile questo video, lascia un like e condividi i tuoi pensieri nei commenti. Ci vediamo al prossimo aggiornamento. E ricorda, come sempre, che io sono Satoshi Nakamoto. Ciao!